Il governo Letta Alfano e la maggioranza delle larghe intese vogliono risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri mandando a casa migliaia di delinquenti condannati appena fino a sei anni di reclusione. Sei responsabile di reati gravi come furto, furto in abitazione, scippo, truffa? Non temere di finire in galera da oggi, potrai rimanere comodamente sul divano di casa tua. Hai commesso violenza privata, maltrattamenti in famiglia o verso minori, atti persecutori, ovvero stalking? Nessuna paura, la pena sarà sempre scontata sul tuo comodissimo divano. Sei stato giudicato colpevole per pornografia minorile, prostituzione minorile, incesto, bigamia? Tranquillo, potrai sempre goderti serenamente il tuo divano. Sei un terrorista? Hai compiuto atti di terrorismo con esplosivi? Attentati alla sicurezza dei trasporti? Nessun problema, grazie al governo delle larghe intese potrai rilassarti sul divano di casa. Fermiamo Caino, no al decreto svuotacarcere. Cor Berlusso Volta Facciamo a tutti i nostri spettai Malămâ the world che sa se ter